Bentornati amici investitori, come immagino già saprete la settimana scorsa il mercato finanziario è stato scosso dalla notizia dei grossi guai finanziari al SBB, la Silicon Valley Bank, la banca delle start-up, insomma dell'ecosistema start-up americano e non solo, e ovviamente il mercato quando succedono queste cose va in agitazione, non dico in panico, però sicuramente in agitazione sì. Allora, in questo video volevo innanzitutto fare chiarezza, come sempre si cerca di fare su questo canale, si cerca di mettere chiarezza sulle cose che succedono e la seconda cosa è ovviamente di cercare di dare una risposta alla domanda effetto contagio, quindi quando si parla di banche c'è sempre il rischio di effetto domino, quindi cade la SBB, cosa succede alle altre? Cerchiamo di dare una risposta anche a questo. Bene, cominciamo subito allora, se vi piace il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro, cominciamo. Allora, cominciamo subito col capire che cosa è la SBB. SBB sta per Silicon Valley Bank, è una banca fondata nel 1983, è una banca che storicamente è rimasta abbastanza piccola, se non altro per gli standard americani, cioè ha sempre avuto asset depositi, scusate, sotto ai 50 miliardi di dollari, che appunto per gli standard americani non è niente di particolare, ed è però molto importante per l'ecosistema delle startup americane perché era veramente la banca delle startup, serviva circa la metà di tutte le startup americane nell'ambito della tecnologia e della biotecnologia, da tutti i punti di vista, quindi sia come banking classico, quindi gestione della liquidità, depositi eccetera, sia come venture debt, venture debt sarebbe praticamente quando la banca presta dei soldi alle startup, praticamente quasi come se fosse un venture capital, ok? Non li mette nell'equity perché non è il suo lavoro, anche se investiva nei fondi, non nelle startup ma nei fondi, però alle startup prestava dei soldi per il lungo termine proprio con un'ottica quasi da venture capitalist e si occupava anche di investment banking, quindi di portare le startup poi alla quotazione, quindi era veramente un punto centrale per appunto l'ecosistema non soltanto californiano ma di tutte le startup d'America, appunto circa la metà delle startup tecnologia e biotecnologia si servivano della Silicon Valley Bank. Come mai una banca che è stata fondata parecchi anni fa, che è sempre rimasta una banca regionale, che aveva un ruolo ben definito, che ha avuto successo, è finita in questo modo, tra l'altro dopo anni di diciamo grande manna per le startup specialmente tecnologiche. Beh, in un certo senso sapete quando si dice di essere vittime del proprio successo? Ecco, più o meno è successa una cosa di questo tipo. Allora, il problema nasce quando? Il problema nasce quando l'ecosistema delle startup tecnologiche in America comincia a decollare. Partiamo dal 2017 grosso modo e poi ovviamente con gli anni della pandemia, cioè il boom della tecnologia. Boom della tecnologia significa valutazioni crescenti, multipli sempre più ampi per le startup, che ovviamente che cosa fanno? Corrono a finanziarsi, ok? Quindi ricevono un bel po' di liquidità dai fondi di venture capital, liquidità di cui in quel momento non hanno bisogno. Che cosa ne fanno? La parcheggiano presso la banca. Quale banca? Abbiamo detto la metà si serviva della SVB, quindi SVB. I depositi della SVB passano da meno di 50 miliardi, abbiamo detto, a circa 190 miliardi di dollari. Quindi praticamente più che quadruplicano nel giro di qualche anno. Quindi la SVB si ritrova con questa marea di liquidità, che un tempo gestiva in modo molto conservativo perché il suo business era veramente quello di banking, quindi quello di servire le startup e investiva l'eccesso, anzi la liquidità delle startup in modo molto conservativo. Quindi titoli di Stato a breve termine, oppure mutui a breve termine, con scadenza, un anno, cose di questo genere. Quindi liquidità da avere sempre pronta. Ora, quando arriva questo eccesso di liquidità, che non aveva mai visto, diciamo, prima di quel momento, il management della SVB ha un'idea, che è quella di dire, beh, tutta questa liquidità che tecnicamente non ci serve, la possiamo investire a lungo termine. Invece di investirla come liquidità, come avevano sempre fatto, titoli di Stato, mutui a breve termine, comprano un pacchetto di mutui garantiti dallo Stato, quindi tecnicamente a basso rischio, ma a dieci anni. E quindi si bloccano lì un bel po' di questa liquidità trasformata in asset a lungo termine, che è quello che fanno le banche, a un tasso molto basso, un po' più alto di quello che avrebbero preso dalla loro solita gestione conservativa di breve termine, lo allungano e prendono un po' di più. E questo è stato la cosa che ha scatenato, cioè è stato il fattore scatenante. Perché questo? Perché si sono esposti doppiamente al rischio tassi di interesse. Quando i tassi di interesse sono saliti l'anno scorso, da un lato le start-up hanno fatto più fatica a reperire finanziamenti, nonché anche ad operare, visto che c'è stata una stretta proprio anche da parte del consumatore, in un certo senso, che è quello che vuole la Fed, tra l'altro, e quindi sono andate a prendere la liquidità che pensavano di avere deposita presso la banca. Giusto? La banca però ha avuto dei problemi anche dal lato delle attività, perché il pacchetto di mutui a lungo termine, che era quindi a lungo termine con un tasso di interesse tutto sommato molto basso, quando i tassi sono saliti, ha perso di valore. È vero che era garantito dallo Stato, è vero che era una perdita non realizzata, però è anche vero che se tu hai delle passività perché le start-up vengono a batter cassa e vogliono i soldi, tu i soldi da qualche parte li devi far spuntare fuori, e quindi hanno dovuto vendere parte di quel pacchetto, hanno realizzato una perdita. A quel punto il mercato ha drizzato le orecchie perché ha detto, aspetta, cioè questi realizzano una perdita, cosa stanno facendo? E quello che hanno perso, quindi quella liquidità bruciata, le start-up dal loro punto di vista, visto che tra l'altro sono un club abbastanza ristretto, tutto sommato quelli importanti, hanno detto, aspetta un secondo, questi stanno bruciando liquidità, ma i nostri soldi sono al sicuro, aspetta che andiamo a prelevare. E questo ovviamente è il classico, è corsa agli sportelli. E quindi sono andati a prelevare in massa, hanno prelevato qualcosa come 40 miliardi in un giorno la settimana scorsa, la SVB non li aveva, default e fine. Ok? Quindi questo è quello che è successo al SVB. Rischio contagio. Allora, quando si parla di bank, ovviamente il rischio contagio è sempre presente, le banche sono legate l'una all'altra da una serie di attività e passività, quindi sicuramente, diciamo, l'effetto domino è sempre un rischio, c'è il rischio che, ovviamente prenda dentro tutti gli Stati Uniti, che prenda dentro anche il resto del mondo, quindi può succedere, certo che vi sia un rischio contagio, questo lo sapremo solamente con il tempo. Tuttavia, quello che mi viene da dire personalmente, è che il rischio contagio sarà molto limitato, e che i problemi di SVB sono molto circoscritti. Come ho detto prima, SVB in un certo senso è stata vittima del proprio successo, e sostanzialmente dall'aver gestito molto male la propria clientela, con le proprie attività, quindi sostanzialmente fare degli investimenti a lungo termine, probabilmente che non sapeva fare, che non aveva mai fatto, se non altro non per quegli importi, gestendo al tempo stesso la liquidità di una clientela che aveva tutte le stesse caratteristiche, cioè erano tutte start-up, perché è chiaro che quando hanno avuto bisogno di soldi, sono andate tutti a chiedergli nello stesso momento, e questo ha creato una tensione che ha portato al collasso della banca, ma è qualcosa di molto particolare, di molto circoscritto, che non dovrebbe succedere, è una banca che invece ha un portafoglio clienti molto diversificato, per cui magari ha start-up, però anche aziende consolidate, anche aziende che stanno facendo molti soldi in questo momento, ok? Quindi questi problemi li vedo molto legati a SVB. Può essere che ci siano delle banche simili, nelle stesse condizioni, però se il regolatore americano interviene bene, come sembra che stia facendo, per cui ha dichiarato che rimborserà le start-up che avevano depositi non assicurati con SVB, ovviamente non erano assicurati, perché essendo aziende anche di un discreto successo, avevano importi particolarmente elevati, quindi ben oltre l'assicurazione pubblica, anche se da loro è molto più alta che da noi, comunque quindi non vedo un rischio contagio dal punto di vista finanziario legato al fallimento di SVB in sé. Quello che vedo invece, quello che potrebbe succedere, sono altre sorprese di questo tipo legate al fatto che si stanno alzando i tassi di interesse piuttosto in fretta e chiaramente non si sa che effetto avranno sui bilanci delle banche, cioè le banche che tutto sommato hanno dei bilanci molto più solidi, le grandi banche se non altro rispetto a diciamo al periodo pre-crisi 2008, tuttavia hanno nei loro portafogli, tra le loro attività, una serie di obbligazioni a lungo termine, a tassi abbastanza bassi, che stanno perdendo valore con il rialzo rapido dei tassi di interesse. Ecco, quindi qualche sorpresa nel sistema finanziario che io tuttavia vedo magari in banche regionali più piccole, più esposte, sottocapitalizzate, appunto meno diversificate, può essere che venga fuori, non mi aspetto che venga fuori nelle banche too big to fail, per dire, ok? Quindi quelle grandi, ben capitalizzate, ben diversificate, che sono anche sotto l'occhio attento del regolatore, eccetera. Mi viene anche da dire una cosa, beh, non era questo quello che volevano le banche centrali? Scusate, se le banche si trovano in una crisi di liquidità, anzi non crisi, diciamo in difficoltà di liquidità, beh, la prima cosa che fanno è limitare i prestiti, giusto? Bene, limitando i prestiti si dovrebbero limitare anche la capacità di spesa del consumatore, quindi basta mutui, basta acquisti con carte di credito, basta finanziamenti per le automobili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi limitando, ok, la spesa per il consumatore, un effetto appunto della limitazione della capacità di erogare credito delle banche, si dovrebbe anche, a un certo punto, calmare questa benedetta inflazione. E quindi questo è anche quello che volevano tenere le banche centrali, giusto? Noi sappiamo, noi sappiamo che i tassi di interesse, quindi alzare i tassi di interesse, è uno strumento brutale, anche se sembra essere l'unico che si può utilizzare. Questo si sa benissimo, è stato usato in dolore in un certo senso finora, anche se sappiamo che in passato non era stato in dolore e quindi anche questa volta ovviamente avrà delle ripercussioni, basta non farsi, diciamo, trovare al posto sbagliato al momento sbagliato, come dice Buffett quando la marea cala si vede chi stava nuotando nudo, ma che il rialzo dei tassi abbia degli effetti, ok, che l'abbassamento dell'inflazione non sia una cosa in dolore, questo era abbastanza chiaro. Se è viaggiuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, se volete imparare un metodo chiaro, preciso, basato sui dati e sulla letteratura di come impostare un portafoglio per il lungo termine, andate a vedere la pagina del mio videocorso Alcuna del Capitale di cui trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e noi ci vediamo nel prossimo video.